buonasera ragazzi it's time of pagelle iniziamo da quelle del gran premio dai allora naturalmente come inaugurato quest'anno si comincia dal basso costruiamo dal basso per quanto io la odi allora partiamo dalle williams logan sergeant 4 oramai si dice abbia le gare contate in formula 1 ed è anche comprensibile perché veramente la macchina regredita rispetto all'anno scorso ma lui non ha mai dato segni di potersi meritare un sedile in formula 1 un altro incidente non ho fatto caso onestamente a chi fra lui e maglussen avesse torto nel dubbio gli ho dato 4 4 a lui e 5 ad albon suo compagno di squadra che anche lui non un weekend positivo sembra sembra rispetto agli anni scorsi un po regredito anche lui ok allora maglussen voto 5 anzi 5 meno perché io ho visto del potenziale nella in questo weekend ma lui penalità casini questo è un altro che secondo me ma non so come ce lo vedo nel circus urkenberg invece suo compagno di squadra a urkenberg invece cito 6 perché comunque si non va a punti ma lo disputa una gara dignitosa all'interno di un weekend dignitoso dove ha fatto bene anche nelle qualifica non ricordo se mi sa nella sprint di io comunque fatto vedere buone cose lui la sul canbergo un po più regolare più esperto naturalmente maglussen invece poca roba e poca roba anche stroll nonostante l'inizio di questo weekend lasciasse intravedere qualcosa di meglio a strondo un 5 e mezzo a strondo un 5 e mezzo mentre dove sei ad alonso che nonostante tutto riesce chiedo scusa dicevo di alonso nonostante il suo weekend ad 6 meno nonostante suo weekend non sia stato dei migliori comunque porta la macchina a punti con un nono posto anche se ha fatto un po di casino in questo weekend fernando comunque sei meno bottase giù guagno giù voto 5 praticamente anche questa gara un weekend mediocre mediocre non fanno danni ma non si fanno manco notare nel lui né nell'uno nell'altro quindi ci sta un 5 di squadra più diciamo ricciardo voto sei meno perché dopo quella bella gara sprint che ha fatto poi mi esce alcuno in qualifica e non va a punti è un peccato perché finalmente avevamo visto un ricciardo un po come i vecchi tempi invece sei meno e sto perché mi ha un po deluso non li posso dare cinque e mezzo per via di quella gara sprint che comunque ha fatto dove ha fatto vedere belle cose però non posso neanche dargli più di sei meno è gas di cinque e mezzo anzi no su nota che invece fa settimo su nota invece ci do un bel 7 io spesso sono stato molto critico in passato con questo ragazzo per i suoi atteggiamenti per le sue fesserie invece quando fa bene è giusto da dimmerito quindi do un bel 7 è più di qualche gara che ultimamente che su nota si affaccia a punti delle prime dieci che stia maturando ce lo dirà il tempo solo il tempo ce lo dirà gas lì cinque e mezzo vabbè l'alpine quella che è quest'anno ma lui più o meno arriva al ridosso della zona punti quindi gli diamo cinque e mezzo che che è il voto aderente alla sua prestazione e invece do sei e mezzo o con che conquista il primo punto di questo campionato è un decimo posto e primo punto non ha mai sono rimasti solo in cinque a quota zero i due della williams i due della i due della sta che come cazzo si chiama lei e se non sbaglio l'altro che è rimasto ancora a zero mi sa che è proprio caso lì l'altro l'altro essere rimasto a zero comunque primo punto dio con un punto importante direi un punto che può dare finisce a questa squadra e adesso arriviamo ai top team ai top team russell ed emilton ci do sei a russell perché si fa il compitino un ottavo posto praticamente lontanissimo dai primi però riesce a far punti di donna la sufficienza perché giusto quella merita sei più invece a lui se emilton che qualcosina in più la fa ed ecco spiegato il più che gli ho dato e adesso veniamo a veniamo a ceco perez voto sei più si resta in zona però in un gran premio quasi di casa mi aspettavo molto di più da perez mi do un po' più della sufficienza perché comunque fa quarto anche grazie alla penalità di science che non sapevo che avesse che avesse avuto però francamente è diventata ormai imbarazzante la disparità con il suo con il suo compagno di boxe penso questo possa essere l'ultimo anno di ceco perez e anche perché poi lo spiego dopo max verstappen voto sette e mezzo sette e mezzo perché perché fa la pole sette e mezzo perché vince la sprint lui comunque qualcosa ci guadagna penso sia solo una formalità il fatto che lui raggiunga il suo il suo quarto titolo mondiale sia una formalità oddio una formalità magari un po' meno però resta grande favorito è parso un tantino in difficoltà anche questo weekend non so se per l'aerodinamica penso proprio per l'aerodinamica perché onestamente immaginare una red bull che abbia problemi di gomme è un po' difficile penso sia stato l'assetto in gara a non essere molto convincente per resta perché la più volte fatto notare ai box quindi e adesso veniamo ai big piastri a piastri voglio dare un sei e mezzo perché comunque ho fatto vedere belle cose in questo weekend purtroppo è stato sfortunato con quel contatto con science contatto di gara secondo me non altro trovo un po' così questa penalizzazione che hanno dato a science però lo sai piastri mi ha molto impressionato io reputo piastri uno con un po' più di personalità di norris anche se ho già visto ha vinto norris però naturalmente deve fare esperienza e penso che a breve sarà se la giocherà per il podio con gli altri allora e parliamo del vincitore adesso lando norris foto 10 foto 10 perché non puoi non dargli 10 dopo la dopo quella splendida gara che ha fatto sì un po' favorito da safety car vabbè però era nettamente più veloce in pista e questo l'ho detto ieri un gran bel vedere per la formula 1 non gli do la lode perché naturalmente nella sprint e in tutto il resto ha qualcosa da farsi perdonare e adesso veniamo ai nostri carlo science voto sei più in pista è quarto però c'è questo contatto che gli costa la penalizzazione va bene però tutto sommato non è stato un weekend brillantissimo quello di science diciamo che è un weekend a sufficienza ma forse ci aveva abituato troppo bene science nelle prime gare adesso lo vedo un po' incalando charles clerk charles clerk voto 7 e mezzo pieno anzi quasi un 8 o meno ma gli diamo di 7 e mezzo se non si monta la testa è molto bene molto bene in qualifica molto bene in gara bene anche nella sprint adesso dai mola in poi mi aspetto i fatti e questo avvio di campionato ha dimostrato di esserci charles clerk non hai ancora vinto e questo non va bene da imola in poi mi aspetto molto di più caro charles adesso ti prendi questo 7 e mezzo che te lo meriti da imola pretendo di più pretendo di più perché quest'anno il titolo lo lasciamo perdere quest'anno mi devi arrivare secondo perché il perez attuale francamente poca cosa mi devi arrivare secondo caro charles altrimenti sarebbe un fallimento mi devi arrivare secondo ai tutti i mezzi io da te pretendo almeno tre vittorie quest'anno vediamo questi aggiornamenti che si dice faranno fare un bel balzo in avanti alla macchina mi aspetto almeno tre vittorie da charles quest'anno oh dopo tutto un po' di pepe al campionato ci vuole sei a cinque sei punti da perez niente non sono niente non sono niente dopo quando quando è gare quattro cinque gare sono state fatte non sono niente perez è raggiungibilissimo e superabilissimo quest'anno il gap rispetto all'anno scorso c'è ma è molto inferiore rispetto all'anno scorso c'è anche la mclaren d'accordo e questo ce lo auguriamo ai fini dello spettacolo ai fini di non annoiarci quando guardiamo una gara caro cial sette e mezzo sei terzo in classifica cinque sei punti sotto perez come minimo mi devi arrivare secondo quest'anno in campionato come minimo mi devi arrivare secondo e mi aspetto tre gare almeno tre vittorie carone clerk perché adesso è ora di fare i fatti detto questo iscrivetevi al canale per fare i fatti tanti 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 like più tardi breve commento su l'uninese napoli e tra l'altro da farvi una recensione di un nuovo libro sul calcio che ho comprato appena ho comprato da amazon per chi ha la mia età la denis iscriviti al canale a dopo iscriviti al canale a dopo